Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto auguri per un 2024 meraviglioso, vabbè possiamo anche dire normale, se fosse normale già per me non sarebbe male visto tutto quello che succede, ma soprattutto auguri per l'apertura di questo teatro, una cosa meravigliosa. Io di solito vedo che i teatri si chiudono, in questo caso se ne apre uno, ha quasi dell'incredibile, un regalo magnifico per tutti i cittadini di Vibo e per noi, è una nuova casa, bellissimo, veramente complimenti. Speriamo che il nostro spettacolo sia all'altezza e che poi non si dica l'abbiamo aperto per questo, allora forse è meglio che lo richiudiamo, magari con la finocchiala dentro così siamo sicuri che l'abbiamo eliminata. Auguri, un bellissimo lavoro, grandi, grazie, grazie di cuore. Cosa chiedere di meglio? Cosa chiedere di più? La guida artistica di Angela Finocchiaro e il rapporto stretto con il Teatro Apparioli di Roma garantiscono un avvio eccezionale per il nuovo teatro comunale di Vibo Valencia. Dopo la cerimonia inaugurale che vedrà protagonista l'orchestra sinfonica della Calabria, il calendario degli appuntamenti è già fissato, si apre con il duo Ale Franz il 14 febbraio, a seguire Paolo Ruffini e Massimo Ghini il 7 marzo, quindi l'evento con Diego della Palma il 12 aprile e la chiusura con la stessa Angela Finocchiaro. Ma l'aspetto più importante e straordinario del rapporto insauratosi con il Teatro Apparioli è ben altro ancora e di prospettive che guardano al futuro del territorio e dai giovani come spiega il direttore generale Michele Gentile. In un periodo storico come questo aprire un teatro è davvero un fatto importante? È un unicum, anche perché io ho quasi 60 anni, ho vissuto tante ristrutturazioni di teatri, ma io almeno a mia memoria non mi ricordo un teatro nuovo, costruito dal nuovo, quindi secondo me è una cosa importantissima, soprattutto è una cosa importantissima perché questo succede al sud d'Italia e quindi è una scommessa in più perché così si tolgono pure tanti luoghi comuni che circolano insomma, quindi siamo contenti ed emozionati del fatto che c'è una nuova casa per tutti noi che facciamo questo mestiere. Nasce anche un rapporto di collaborazione subito con voi del Teatro Apparioli e questo nuovo teatro di Vibo Valencia? Certo, io credo molto nelle collaborazioni, noi vogliamo mettere su un progetto che vada anche oltre il portare qui qualche spettacolo, ma insomma vogliamo che questo teatro viva, vogliamo investire sulla formazione, vogliamo insomma che sia anche una casa che possa dare opportunità ai giovani calabresi di lavoro, di conoscenza e quindi credo che si possa fare un bellissimo lavoro, poi avete un sindaco che è molto determinato e praticamente è impossibile di dire no, quindi siamo contentissimi insomma.